L'Aquila parte con il progetto Davide, un progetto che grazie a due appartamenti messi a disposizione dal comune in via Campo di Fossa permetterà ai ragazzi con autismo e alle famiglie di sperimentare nuove esperienze di vita e anche di avvio al lavoro. L'associazione Autismo Abruzzo Ollus prova così a dar via all'Aquila Lab, una sorta di laboratorio che verte su tre filoni, turismo sociale, avvia lavoro e vita in autonomia dei ragazzi. Il progetto Davide è un'esperienza di innovazione sociale poderosa perché riusciamo a mettere al centro delle attenzioni, delle istituzioni, della nostra azione ragazzi autistici sia partendo da ragazzi che hanno delle competenze specifiche ma anche lasciando una porta aperta a quei ragazzi e quelle famiglie che hanno delle difficoltà più marcate. Il progetto Davide ha tre indirizzi specifici. Il primo è l'attivazione di weekend di respiro, cioè dare una risposta a quelle famiglie che non hanno nessun supporto, nessuna assistenza, avviare al lavoro i ragazzi adulti che hanno delle passioni, qui oggi abbiamo alcuni rappresentanti di una tipicità autistica e abbiamo anche il terzo obiettivo che è il turismo sociale, cioè permettere alle famiglie che non conoscono l'Aquila di conoscerla, ovviamente le famiglie con autismo, e permettere loro attraverso l'utilizzo gratuito di appartamenti pubblici del Comune di poter avere un alloggio di riferimento e conoscere la città sotto un altro aspetto anche se con i loro figli autistici. A questo aggiungeremo anche un servizio d'assistenza per ora a pagamento da parte degli operatori qualificati che sono presenti sull'Aquila e che magari nel fine settimana potranno integrare la loro attività. Quindi è una vera e propria rivoluzione dal canto nostro ed è questo Aquilano il primo tassello di quello che definiamo l'Aquila Social Hub, cioè un contenitore molto ampio, diffuso territorialmente sul nostro territorio, alla stessa strega di quello che stiamo facendo su Teramo. Il Comune, grazie al Sindaco Pierluigi Biondi e all'Assessore Vito Colonna, ha messo a disposizione gli appartamenti grazie all'accordo con l'Associazione, ma ci sono dietro anche delle grandi aziende che in modo completamente gratuito hanno deciso di sposare il progetto e hanno messo a disposizione quindi arredi, biancherie e televisioni, occupandosi pure del montaggio. In tutta questa bella esperienza che diventa una sfida a tutti gli effetti, perché ora l'Associazione dovrà sostenere anche i costi di gestione degli appartamenti, c'è pure la collaborazione del Comune di San Giovanni Teatino. Diciamo che un po' tutto è partito da lì.